Ciao a tutti, sono un contrabbandiere. Un contrabbandiere di giocattoli. No, non è vero. In realtà io sono quello che ha disegnato la storia del contrabbandiere di giocattoli. Ma attenzione, perché questa non è una favola. Questa è una storia vera. Parla di una guerra, no? E si sta combattendo in un paese non tanto lontano dal nostro. La Siria. Questo è il paese dove si svolge la nostra storia, che come vedete non è lontana da noi. Questa è l'Italia. E allora mi direte, ma cosa c'è di bello da raccontare su una guerra? C'è di bello che così come a volte in un deserto può anche nascere un fiore, in una storia così drammatica come quella della guerra, può nascere una speranza, può nascere qualcosa di bello, qualcosa di positivo. Questo fiore si chiama Rami. Rami Adam. Rami è nato in Siria e poi è andato a vivere in Finlandia, proprio la terra dove vive Babbo Natale. Rami pensa sempre alla sua terra, al suo popolo. Rami ha deciso di aiutarli, di partire dalla Finlandia e andare fino in Siria a portare degli aiuti, a portare da mangiare, a portare dei medicinali. Ma è proprio da sua figlia, Yasmin, che viene l'idea più bella. Papà, perché non porti i miei giocattoli? E così, tutti gli anni, Rami, parte per la Siria con un carico di giocante. Scritto da Fulvia degli Innocenti, illustrato da me e edito da Valentina Edizioni. Ricordatevi che là dove c'è sofferenza, dove c'è tristezza, noi possiamo inventare dei modi per portare un po' di felicità. Ciao a tutti! Ciao a tutti!